Corri 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 le telecamere non ti fermano già nulla mi può fermare quando sono foxy tu sei spacciato Oh no quasi è finita l'energia eccola che è finita Ok per fortuna soltanto una torcia luca stammi lontano Ma salve luca E' l'ora degli animatronics Luca vedrai come ti vengo a prenderla O la tua telecamera mi ha mancato la grande sono leggermente più a destra e tu non mi potrai vedere Si sono a destra sto arrivando con un po di calma con un po di tranquillità ma anche no alle sei arrivando e beh ovviamente deve Resistere fino alle sei a però non ti dico da dove arrivo anche perché potrei cambiare animatronic forse Un ventilatore ti interessa il ventilatore tu no no tu rinfrescati pure mi hai mancato per un pe Porca miseria non mi posso muovere quando mi inquadri dai togli questa telecamera dopo ti si consuma l'energia dopo un grande peccato se rimanissi Poxy dammi una mano tu per favore poxy dammi una mano Ok saltino non sto non mi sto muovendo di un millimetro tranquillo Sono qui immobile Troppi Isgamabile eh Sì 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 non mi vedrai mai non mi vedrai mai Spegni con la luce luca guarda che consumi un sacco di energia Questa guarda che dopo un riscaldamento globale tutto colpa tu a Salve cosa io ci provo lo stesso vieni qua no no Cosa ma come no no da nazione mi devo allontanare di allontanare porca miseria non ci credo Hai scattato una penalità ma come stare vicino alla porta quando ce l'ho chiusa se no ti dà una penalità se non stai particolarmente Attento bel coriglio potrebbe partire a no dannazione di nuovo ok via 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 Ehi sta no no basta basta no ma dai ma una volta ti dà full potere Porca miseria impossibile questa cosa dai che sono le tue di mattina Non sono bravo come animatronic Sì no no di niente di niente Ma porca miseria Cosa stai facendo? Niente tu continua a dare un'occhiata alle luci Dai un'occhiata alle luci tu Da nessuna parte piccioncino Salve ma salve ma cosa ci fai di qua non ci faccio niente Tu tieni le porte aperte tieni le luci spente E apro la porta e chiudo la porta Ma come? Nemmeno così ce l'ho fatto Cosa? No no Sì ce l'ho fatta No a me se che non posso dirlo no L'ho spalancata io com'è che ho fatto? Oh no ora tocca a me Ma come ma non è giusto Aspetta com'è che vedo Oh sei tu quello? Chi sei di questi tre che non lo so di preciso? Sei boni? Ma come non sei lì? Ma sì che devi essere qui Sono dietro di te No eccoti ti ho visto Maledetto ti sei mosso ti sei mosso ti ho visto Ok non devo sprecare non devo sprecare corrente ok Stavo sprecando un sacco di corrente Cos'è? Cos'è successo? Ho visto tipo un'allucinazione Luca dove sei? Perché non ti vedo più Oh mio dio No 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 Freddi No cosa vuol dire che sei? Oh no se sei freddi vuol dire che Non segui la strada che fanno tutti gli altri Vuol dire che Porca miseria Dove il diavolo sei? Sei tipo qui accanto Freddi Eccoti là Che carino Dai vieni qua che voglio vedere come sei capace Di entrare all'interno delle mie porte No in realtà non lo sei Oddio Ma perché tutti questi glitch strani? Anche tu vedi gli glitch strani Dannazione No Ok allora mi sa che il tuo potere è speciale Sì sei ancora qui Eh madame ho colento Perché fai Oh no Oh no Salve Salve Che carino che sei però Dai avvicinati Dai Prego è aperta la porta per te Perché sei sparito? Come? Come è fatta? No che questa non è una cosa legale Come ho fatto a sparire? Dove sei? Non ti vedo? Non ti vedo? Oh mio Dio Oh mio Dio Cosa 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 Oh porca Ok ok apriamo questa Apriamo questa Spegniamo questa Perché non te ne vai un po' via? Dai 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 Ok Come Come fai a sparire così? No va bene Questo non è legale Io non potevo sparire prima Ok ti vedo Stai un po' fermo qui Ah lo sai cos'è Ma posso trasportarmi anche quattro minuti Lo sai cos'è? Il fatto è che con Freddy bisogna utilizzare parecchio le telecamere nel vero e proprio gioco Quindi mi sa che lo farò anche con te Sei qui vicino? Dai almeno parla porca miseria Non puoi stare così silenzio Potrei essere nella tua stessa stanza Non può essere nella mia stessa stanza A meno che tu non sia invisibile Buongiorno Nooo dai Lasciarmi entrare Ho visto l'orecchio Ho visto l'orecchio Salve Salve Ma non puoi ogni volta sparire così Dannazione Uh è di qua Ma no Ma dai Tutte le porte Dai dai vieni qua Oh no non capisco nulla Non capisco nulla Le telecamere sono super confusionarie Oh no No Chiudi la porta Chiudi la Chiudi Mi sa che è un po' inutile adesso Chiudi la porta Oh sono anche nel 5 di mattina Che peccato Guarda che se non mi uccidi subito Rischio di vincere lo sai Ah Nooo perché te l'ho detto Potevo star zitto Ora è il mio momento Foxy Può stare lontano da Pirate Cove Per 75 secondi Quindi dovrò sbrigarmi A mangiarti Beh si l'avresti scoperto molto velocemente Oh sono uscito a uscire Salve Salve Non vi vedrai mai Corri 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 Le telecamere non ti fermano Sono tipo Le telecamere come ben visto non mi possono fermare Però ho andato da via Dannazza hai dato la full power Lo stesso Posso ritorna Posso anche ritornare dentro Pirate Cove Faccio un Vabbè saltino fuori Vieni qua Vieni qua Passettini e i passori Porchiamissima Piano 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 No davanti me l'hai sbattuta in faccia Ti odio Maledetto me ne torno a te la pilot cove per recuperare l'energia Ma dai Ma non è possibile Guarda guarda come assi Ok toliscono sono pronto Arrivo 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 non dovrei dirtelo Arrivo arrivo ma anche no Dove sei? Da nessuna parte Da nessuna parte No No ma come fai ad andare così veloce Ti ho gabbato Sono tornato indietro Oh no un'altra volta e questa volta tu cosa sei Sei cica Sei appena scomparsa Non è vero Salve Guardalo che bello Che è tornato indietro come se nulla fosse Come se nessuna è Cosa torna su Torna indietro Non lo so farla pizza immagino Quindi mi spiace Magari puoi svegliare Foxy No non svegliare Foxy Non svegliare Foxy Tu non puoi svegliare Foxy Stai buona perché ti devi muovere così a scatti Che mi fa impressione Ma perché puoi camminare Ecco l'abilità di Cica è fregarsene altamente dalle telecamere Ok faccio una bella cosa Io in tutte queste queste serate ho visto che l'energia è stata fin troppa Quindi Abuserò della mia energia Un pochino tanto tanto Non mi sembri molto sveglio o sveglia Oh no cosa fai da questa parte Fai via vai via Porca miseria te E le tue stupide Tuoi stupidi passaggi segreti Ma Cica non ha un'abilità speciale E vabbè non tutti nascono con un dono particolare Devi vivere comunque la tua vita Luca Non puoi criticare queste cose No è inutile che ti muovi lentamente Ti vedo lo stesso se ti muovi Ok questa no La vinco senza problemi Non farmi sprecare così tante energie Io chiudo tutto Non ne voglio più sapere nulla Oh no Luca forse chiudere queste porte in maniera esagerata non è stata una buona idea Porca miseria Oh è quasi finito la power Eeeh Cristo Santo Mi sa che sono fregato Oh ma salve No 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 Oh no no Dove sei? No ti vedo Via 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 Dove sto andando dove diavolo sto andando? Stai scappando? Tutto a destra, non c'è niente Mi sta ancora seguendo Non ti vedo Non ti vedo Sei qui? No! No, 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 no! Qua dietro qua dietro qua dietro Ok sto scappando sto scappando Deve esserci un vado per uscire a questo postaccio Oh mio dio ma questo è uno specchio! Oh, ma siamo arrivati alla fine del tunnel, Espy No, non siamo arrivati alla fine del tunnel Qualche ultima parola? Vorresti il pene No, non lo so Mi sono emozionato Per favore non farmi del male Sì, no No La paperella mi ha salvato La paperella mi ha salvato Quindi gente, questo era Five Nights at Freddy's In LittleBigPlanet 3 Ovviamente in compagnia di Luca Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti Se volete supportare questa serie su questo incredibile gioco Che è veramente, veramente fantastico Per tutte le modalità che ci offre Lasciate tantissimi piace e vi porteremo altri episodi Alla prossima, ciao, ciao